I sindaci, i presidenti delle province e degli ordini degli avvocati rilanciano la battaglia per la salvaguardia dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmone e Vasto e chiamano i parlamentari a sostenere l'iniziativa. Si punta sulla ulteriore proroga di almeno due anni della data di chiusura, settembre 2022, e agganciare la salvezza dei tribunali abruzzesi alla riforma generale del sistema giustizia. Oggi prioritare e ottenere immediatamente una proroga rispetto alla sospensione degli effetti della norma che aveva di fatto soppresso i quattro tribunali minori abruzzesi. Questo è fondamentale proprio per consentire nell'ambito della revisione della geografia giudiziaria, più in generale, del sistema giudiziario nazionale, una riorganizzazione che possa in qualche modo rivedere le decisioni prese in maniera scellerata dieci anni fa. Ieri, insieme agli altri sindaci e ai presidenti degli ordini degli avvocati, abbiamo condiviso una strategia comune che parte proprio dal coinvolgimento di tutti i parlamentari, in particolare i onorevoli della Camera dei Deputati, perché già subito, già nei prossimi provvedimenti di proroga, previsti già in questa settimana, si inseriscano dei opportuni emendamenti. È importante che si faccia squadra perché questo risultato deve essere raggiunto assolutamente da subito. Dal giorno dopo si inizia a parlare di revisione. Nel corso della riunione è stato sottolineato che la chiusura dei quattro tribunali sarebbe un disastro per i trasporti, la viabilità, l'economia e l'ambiente, quindi per la qualità della vita dei cittadini e delle imprese. Questo non deve accadere perché in un periodo di pandemia come questo non è opportuno assolutamente modificare lo status quo per garantire quei diritti di cittadinanza come giustizia che sono fondamentali in aree come le nostre che hanno delle caratteristiche particolari. È stato fissato un vertice con i parlamentari con all'ordine del giorno la proroga per i tribunali abruzzesi, richiesta che dovrebbe essere legata alla pandemia e inserita nel decreto proroghe. È stato deciso nella riunione di ieri e previsto per questa sera un incontro proprio con tutti i parlamentari regionali affinché su una proposta di emendamento fatto da deputati della regione Abruzzo si possa trovare la massima confluenza e il supporto sia in sede di commissione ma soprattutto in aula perché finalmente questa volta venga accettata nei tempi più brevi possibile. Grazie.